Tom Raider Classics E' possibile salvare nel primo livello, quindi giungla, nel secondo, rovine del tempio, e nel terzo, il fiume Gange Quando arriverete a Caverne di Calia, non salvate, terminate il livello e reindirizzatevi nel mappamodo dove scegliere la prossima avventura Dirigetevi quindi sul Nevada Per questo bug sarà sufficiente terminare il primo livello, ovvero deserto del Nevada Nel mio caso usufruirò del trucco saltare il livello per darvi una dimostrazione più celere del bug Una volta terminato il livello, sarà presente la cutscene Saltatela Qui sarà possibile salvare oppure non salvare Decidete voi Tramite questo bug, anzi, schippare I primi due livelli del Pacifico del Sud Ovvero Villaggio costiero E luogo dell'incidente Quindi se voi aprirete adesso l'inventario Andando su partita Carica partita Vi troverete Gola di Madubu Tramite questo bug è possibile saltare questi due livelli Usufruendo però delle armi Che già vi sono state sottratte O almeno una parte delle armi che vi sono state sottratte Nella zona reparto di massima sicurezza Bene, spero che il video sia stato di vostro gradimento Mi raccomando Mettete vi piace, condividete il video Un saluto, arrivederci